questo non è un film ma la roba è uguale, è uguale c'è sta uno che segue il frattore che ha la tira per le lunghe ma a un certo punto arriva il negoziatore al telavoro che lo rincoglionisce le parole gli fa la testa così, quello ciò che lascia e il finale purtroppo lo sappiamo tutto tu sono un pazzo megaloma oh, in questi film c'è sta sempre nostaggio che muore prima dell'altro e sta su un cazzo a tutti e me sta in buon position ma perché io? perché? io voglio collaborare voglio collaborare non voglio collaborare mi scusi, mi scusi signor Renzo c'è un bambino qui ma non è sempre questo il governo io non voglio guagli non voglio danni al negozio sarà una paura ma certe cose non si combate signora regina, di là posso andare signora? signora! non se ne parla proprio ma io mi sento male ma che c'è l'ora che scappa da Oscar? signora! signora! è urgente? urgentissimo allora vada ma non faccia scherzi eh davvero? vada posso? sì posso? sì ho detto! capito però Anna Amo se non cambia idea vuole che l'accompagni al bagno ma che la cazzo è in bagno? sei proprio un curciano mamma se vuoi riesci a un vasoletti eh? oh sì posso? posso? grazie che lei è molto gentile mio padre diceva il rumore di gentilezza fa eco eterna e lei è il rumore lei è il rumore no mi scusi devo far tracciare mi scusi a terra a terra a terra dimmi cosa vedi niente sicuro? te l'ho detto voglio solo lavorare aia non li crede guarda che i cecchini stanno già tutti là con i fucili puntati come te vedo non sparano no perché c'è lui qui davanti quelli non sparano ma che ne hai visti mai nei firmi i fucili quelli con laser? che basta che scori che due centimetri quelli appena vedono del pontino rosso sulla fronte basta! mi sto sul cazzo eh? grazie